La riforma della legittima difesa e legge. Il Senato ha approvato il provvedimento in terza lettura con 200 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti. Il nuovo scenario normativo sembra destinato a portare all'archiviazione la posizione di Fredi Pacini, il gommista di Monte San Savino, che sparò, uccidendolo, ad un lato entrato nella sua azienda. Se anche con la vecchia legge Pacini aveva probabilmente buone possibilità di uscire in modo lieve dalla vicenda giudiziaria, la nuova legge comporterà quasi certamente l'archiviazione, decadendo anche l'ipotesi di risarcimento ai familiari della vittima. Con il via libera al provvedimento, secondo il ministro Salvini, si eliminano anni e anni di giri per i tribunali e spese legali, si elimina il risarcimento di centinaia di migliaia di euro per i parenti dei poveri rapinatori, ha aggiunto ancora Salvini. Con il nuovo testo si riconosce sempre la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa, se taluno legittimamente presente nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, usa un'arma legittimamente ritenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o l'altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. Affinché scatti la legittima difesa non è necessario che il ladro sia armato, è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un'arma e non è necessario che la minaccia sia espressivamente rivolta alla persona. Con il nuovo testo si esclude anche la punibilità di chi si è difeso in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. Scenari che sembrano calzare piuttosto a pennello con quanto accaduto a Monte San Savino.